Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo sul sagrato di Santa Maria delle Grazie. La chiesa di Santa Maria delle Grazie è la chiesa grande, così come la ricordavano i figli spirituali, è la chiesetta antica di San Giovanni Rotondo, la chiesetta intitolata Santa Maria delle Grazie, il convento dei frati minori Cappuccini. Perché qui sul piazzale oggi? Facciamo riferimento ad una data specifica, 12 novembre 1950, ed è Padre Agostino che ci racconta dal suo diario qualcosa di speciale. Oltre a raccontarci la vita quotidiana di Padre Pio nel suo diario, infatti lui scrive in quella giornata che fa quella vita quotidiana, Padre Pio, sempre uguale. Nell'esplicazione scrive del suo Sacro Ministero, è sempre unito al Signore anche nelle distrazioni necessarie della vita, tutta diretta alla Divina Gloria e al bene delle anime. E fin qui diciamo che il diario è sempre su questo stile, racconta la vita di Padre Pio, ma c'è un particolare molto interessante che ci fa comprendere quanto era grande anche la fama di santità nel mondo dello stesso Padre Pio. Infatti Padre Agostino annota che alcuni vescovi dall'estero visitano Padre Pio da Pietrelcina, vengono qui a San Giovanni Rotondo. Infatti uno di questi si trovava sul piazzale del Sagrato, quindi siamo nel 1950, non c'era ancora la grande chiesa di Santa Maria delle Grazie, c'era solo la chiesetta antica e il piccolo convento, quindi un piccolo sagrato ma ricco di pellegrini. Infatti proprio qui i pellegrini che aspettavano e quindi salutarono questo prelato che si allontanava, lui disse sono molto contento di essere venuto in Italia e soprattutto di aver visitato il Papa e Padre Pio. Questa considerazione ci aiuta un po' a tornare indietro negli anni, al 2 novembre del 1920, il giovane Cappuccino aveva poco più di 30 anni, Monsignor Giuseppe Angelo Poli che era il vicario apostolico di Halalabad in India, lui disse determinate parole che rimasero incise, potremmo proprio dire così, nella cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo. Non ho neppure il minimo dubbio, lui disse, il dito di Dio è qui. Davanti a Padre Pio uno si sente sopraffatto dalla presenza del soprannaturale, nello stesso tempo la sua naturalezza e soprattutto il suo contegno sono sempre uguali, inspirano tutta la sua confidenza. Sono contentissimo, disse il vicario apostolico di Halalabad in India, sono contentissimo della visita fatta perché il dito di Dio è qui.